Il dottore dell'Università di Padova ci ha dato questa grande opportunità. Grazie a Gatto, grazie al dottor Nelazio che ci ospita. Per me è la prima volta in l'Università Portuale, mi confessavo prima di non conoscere la complessità del mondo dei porti e delle navi, non che mi sfuga di potenza, ma non rispondendo di una barca, non avendo mai navigato. Ma immagino che ci sia una grande complessità ed è importante ed è straordinario che in qualche modo un'unione come l'Università Portuale poi al fine comprenda una necessità formativa e poi certi che si mette alla terra. Il preside della Scuola di Medicina di Padova, tra l'altro, diciamo che l'asset veneziano, come lo Stato di Padova di Padova, è per noi fondamentale perché crediamo che nella formazione particolarmente dell'area infermieristica il rapporto con il territorio, con gli ospedali sia l'elemento cruciale. Allora, non credo di Padova, né dei formatori, né dei docenti, ma vorrei ricordare come poi tutta la parte di tirocinio, ma anche di docenza nel mondo infermieristico nasce sostanzialmente in strettissima collaborazione con le agende sanitarie, anche perché noi crediamo che la parte di tirocinio di formazione sul campo sia l'elemento cruciale per una formazione di qualità. Tra l'altro, l'idea di estendersi al territorio, che siamo presenti di fatto in tutta la regione, è perché i territori hanno un bisogno diverso, pensate alla rata della montagna, al rato del mare, ed è molto interessante che poi si provvedano anche a instaurare percorsi, come diceva il dottor De Blasio, che poi possono essere indirizzati anche a aree commerciali, ma che hanno bisogno anche di sicurezza di esistenza sanitaria. Per noi, quando il dottor contato, con una certa forza, mi ha posto il problema di andare a, diciamo, esplorare la possibilità di andare a Chioggia, che chiaramente è una zona che non porta vicina al nostro atteneio, quindi con qualche disagio, con qualche sistema di docenza, e devo dire che abbiamo delito entrambi così. Io ho sentito molto, parecchio, sicuramente a quel credito, e siamo partiti, credo, discretamente alla fine, con discretamente alla fine. Tutto ciò non sarebbe benito se poi, appunto, l'autorità contolare, l'azienda sanitaria non avessero poi provveduto a quella che è la criticità più grande oggi, quindi, per i cosiddetti megatenei quali noi siamo, cioè quelli che sono gli spazi di portazione. Quindi, ecco, poi non voglio togliere il ragionamento all'assessore, ma il problema si anticipa al fatto che, se c'è un'emergenza in sanità, bisogna di questi vedi che mangono i medici, i quali da lì su, che dovranno mai avere esaurito, in forma di argomento, per esempio, l'accasia e il terzo povere, come quali si manda, le riuscite, sicuramente la rinfemmieristica e mattuccio di tacco a tutti. E vorrei che riuscite un'emergenza, se possibile, sempre, che se certo c'è un problema sulla vocazione per l'area sanitaria, questo è il più grande che per l'invernizzo per l'area di campione. Che in realtà è un lavoro straordinario, importante, che sono personali, è il personale che passa più tempo sull'invernizzo. È quello che ha più bisogno di formazione, non solo tecnica e pratica, ma anche di carattere proprio relazionale. E se crediamo che l'educazione e salute siano ancora, in questo paese che generale in Europa, un bene avveniciabile e grande vantaggio, di questo, della nostra cultura, ecco, anche l'aiuto della stampa nel diffondere la bellezza, questo è quello che ha anche le difficoltà. Certo, l'impegno, questo potrebbe essere grande. Perché, vedete, noi continuiamo a mettere a mianco, la scuola che vi ho detto, incremento a mianco in posta infermieristica, poi il tema è garantire l'educazione, per garantire il traccio delle persone, che vale la fine di investire la propria vita in un percorso formativo che è complesso, edificio, ma che comunque sta ordinando l'aspettiva anche personale di chi può dedicare a un'intervista. Quindi su questo l'università c'è, perché noi sentiamo la nostra responsabilità rispetto al territorio. E per concludo, ringraziando il dottor Contato per essere stato di stimolo, ma poi per aver messo a terra, ringraziamo l'autorità portuale, perché senza di loro non avevano messo a terra un percorso. E ringrazio, grazie. Grazie, professore. Allora, l'ultimo corso di infettura, ieri a Chioggia c'è stato nel 95-96. Quindi dopo circa 30 anni, la sanità con questo tipo di investimento arriva ancora nella città di Chioggia, che è la settima città del Veneto, per un'inforzazione che vede delle peculiarità significative. È una città turistica, una città portuale, è una città che ha un comparto pesca importantissimo. Penso che il fatto di puntare anche sulla formazione, e sulla qualità della formazione, sia un investimento giusto per la città di chioggia. Quindi darei la parola al sindaco di Chioggia, che anche in questo caso ci è stato d'aiuto, ci è supportato e ci è sempre stato vicino, in tutte le vicende di questi anni. Grazie direttore, buongiorno a tutti. Io apporto i saluti ovviamente della città di Chioggia, dell'amministrazione comunale, e sono parte di ringraziare il primis, il direttore generale, in cui ci devo fare un rapporto, anche di amicizia, perché abbiamo collaborato insieme in quei momenti difficili del Covid, e ancora una volta che oggi abbia vinto la squadra. La squadra che è stata impegnata, per il punto del Covid, nell'affrontare l'emergenza di punti tamponi, anche vaccini, ovviamente abbiamo in dieci giorni creato un punto tamponi presso una zona dell'autorità portuale, che c'era bisogno di alleggerire la pressione, mi ricordo quei giorni, che c'era proprio a 30 metri del pronto soccorso di Chioggia. Proprio per una questione professionale, ho detto che non possiamo rischiare di avere il pronto soccorso invaso dalle persone che aspettavano il turno per fare il tampone, tanti bambini, anziani, veramente in dieci giorni, tra AS, Comune, Protezione Civile, l'autorità portuale, che da subito, veramente, credo che stia lavorando per la città di Chioggia, non solo pensa a decrocere, a tutta l'attività marittima, ma con l'amministrazione nostra, con l'autorità portuale, con l'AS e anche con l'Università di Padova, che ringrazio perché chiaramente ha creduto nell'investimento presso la nostra città, presso i locali, ovviamente, dell'ASPO, l'ex ASPO, diciamo. Vuol dire che c'è comunque un ragionamento fatto assieme. Per me, da sindaco, avere la possibilità in città di avere, diciamo, 50 posti, come il primo anno, legati a quella che è la formazione di questi infermieri, che poi lavoreranno nelle corsie degli ospedali e non solo, ad aiutare la popolazione, le persone in difficoltà, detto bene, chi ci vuole anche una vocazione, perché non tutti i mestieri sono mestieri e basta, per arrivare a fine mese a prendere lo stipendio, ma credo che quando uno lavori sul pubblico, parlo degli infermieri, dei medici, degli operatori sociosanitari, delle forze dell'ordine, ci debba essere comunque una vocazione, una passione per questo mestiere. Credo che i 50, diciamo, nuovi infermieri che inizieranno la loro carriera nella nostra città, per me è un orgoglio, è una offerta formativa importante per la nostra città, sapere che questi infermieri potranno fare anche il tirocinio nel nostro ospedale di Chioggia, dove l'Asia e la regione del Veneto stanno anche investendo molte risorse, parliamo anche di nuovi primari che sono arrivati in questi anni, al di là magari di qualche polemica che qualcuno fa, ma credetemi che il direttore generale in primis sta lavorando per creare i reparti nuovi anche della nostra città, sono arrivati di primari, penso che il reparto anche di cardiologia sia un reparto veramente d'eccellenza nella nostra città, poi le difficoltà sono tante quando si amministra, non è semplice, e che sia, delle volte le persone mi chiedono ma questo, ma quello, cioè non è che sia tutto dovuto, le cose da affrontare sono tante, le emergenze sono tante, le difficoltà sono tante, però ripeto, con questo gioco di squadra ancora una volta abbiamo dimostrato che amministrare con senso di responsabilità, il bene pubblico, la cosa pubblica, i risultati ovviamente si raggiungano. Con l'autorità portuale non solo abbiamo lavorato sulla croceristica in cui la città di Chioggia crede molto, in cui gli operatori turistici ed economici della nostra città ringraziano sempre perché ovviamente nella nostra città arriva un nuovo tipo di turismo che prima Chioggia non aveva, se non nelle navi diciamo commerciali, però con questo corso di laurea per me stiamo veramente iniziando un percorso fantastico per la nostra città e poi non dimentichiamoci che tanti ragazzi di Chioggia che stanno facendo anche i corsi di infermieristica sono pendolari. Io conosco ragazzi che vanno anche a Romino a fare il corso di infermieristica o anche un amico che si è laureato da poco mi ha detto Mauro se ci fosse stato questo direttore generale prima, questo presidente dell'autorità portuale, questo sindaco all'Università di Padova probabilmente avrei fatto questi tre anni a casa, non avrei fatto il pendolare, non sarei stato costretto a dormire fuori, adesso 50 ragazzi di Chioggia e perché no anche dei paesi di Mitrofi potranno veramente studiare vicini a casa, potranno fare poveri di tirocini all'ospedale e abbiamo insomma che sia potenziato anche con i tirocini all'ospedale di Chioggia e quindi un ringraziamento da parte mia veramente a tutti questi attori che sono seduti qua perché noi crediamo veramente nel gioco di squadra insieme permettetemi di dire che il presidente è interista e anche contento che ha vinto lo studente l'inter con questa squadra siamo invadibili e grazie veramente a tutti a nome mio e a nome di tanti genitori che hanno avuto i figli che hanno studiato fuori di Chioggia e sono diventati degli infermieri grazie e ringrazio ovviamente all'assessore regionale che è qui presente che ci accompagna anche a non commettere degli errori insomma quando facciamo le richieste ci accompagna sempre insieme anche al consigliere regionale Marco Dolfin che ovviamente è una spina nel fianco in un senso buono perché poi è il nostro collegamento anche con la regione del Veneto c'è anche l'assessore Sandro Marazzone che è l'assessore sociale quindi sa e l'istruzione anche sa lo meglio di me cosa vuol dire insomma creare nuova formazione nella nostra città di Chioggia che è a Porto e se questo è tenuto in un angolo ma che sta veramente ritornando protagonista anche nel mondo dell'università grazie continuando con la metà sulla calcetta